Scusi, non ha capito, dobbiamo chiudere, è tardi! Domenica 26 giugno, mio figlio Mirko Casadei, assieme a Omero Cadazzi, in concerto, a San Rocco di Buscetto di Parma. Ma cosa succede? Che storia è questa? Ma cosa mi comincia? Ho capito, ma dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere! Oh, era Casadei. Chi? Raul Casadei. Ma non fare patacca, dai! Cos'è che ha detto? Il 26 giugno, San Rocco di Buscetto, Parma. Bello, c'è Mirko Casadei e Omar Codazzi. Tu ci vai? Ma se vieni tu, vengo anch'io. Andiamo insieme? Dai, chi si va? Dai, vai, vai. C'è il 26 giugno. Grazie. 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 Grazie.